Salve a tutti, io sono Theon e io sono Buller e insieme formiamo un gruppo spastico chiamato StarCast adesso non vi stupite se abbiamo messo un attimo in pausa perchè dobbiamo spiegare un paio di dettagli su questa partita si, ma puoi rifugiare play, tanto non succede niente si che succede, succede una cosa fondamentale aaaah hai ragione questa signore e signori è la caster war ovvero una uno pseudo torneino tra tutti quelli che hanno tra coloro che faranno i caster per per la forum war e più è diviso in tre conti è più quello che farà il nostro sito ovvero Buddy Love che tra l'altro è anche stato per primo comunque, praticamente funzionerà così è un tre contro tre su una mappa generica che in questo caso è Tempesta e praticamente è mono unit ovvero a inizio della partita ognuno sceglie qual unità fare e farà solo quella tutta la partita per il resto della partita, ovviamente i droni e i lavoratori e le strutture sono considerate sono considerate anche quelli da attacchi e per i zerga anche le queen però basta che non attacchi con sì, basta che non faccia masqueen comunque, sì, infatti e attenzione, quindi adesso per partire vedremo quali unità selezioneranno ogni giocatore i vari giocatori vediamo qui c'è appunto Buddy Love mettiamo qui che si vede meglio vediamo per ora abbiamo un Robert Chase che se ne esce con un Sentry un Desert che fa fare Firecraft Ultras e un Firecraft esattatissimo se ne esce con Arconti for the win e Buddy Love Buddy Love Thor è qui ci siamo diventiti come un'altro che scrive in alleati anche io no, che delusione bene, comunque adesso avete visto tutte le tappe che abbiamo uscito comunque devo scrivere forse alcuni avrebbero detto Indfest Indfest dai abbiamo avuto da notare che noi siamo suonati io sono sparato in una evoluzione veramente orreda quindi sono da solo loro sono intattata anche Dessa anche Dessa è bello si deve si deve anche accanto di si era che faceva l'ultra se gli arrivano in casa con i miei di DishTor allora vediamo un po' andiamo Buddy Love come aprirà e tutta l'altra è anche il nostro 1.3.2.3 è veramente un bordello però poi mi scadillo ma sta no, per l'altro di reale ho anche di lo spazzato doppio gas cosa fai che un diavolo ragazzi beh, per fare must in fact ah no doppio gas trick inutile che cazzo no, perché aveva fatto la cazzata comunque vediamo in frattempo Desa che ah, tra l'altro notare che abbiamo tutti unità tipo T2 piensa che è ancora rimasto 10 sì di supply ecco perché avevo fatto l'extra trick perché avevo fatto la cazzata che ha fatto lui ovvero fare l'overlord tardi bravo comunque diciamo che abbiamo scelto più o meno tutti unità veramente da late game per esempio te l'ho scelto l'ultra e non si è visto per tipo metaparty eh, più o meno sì tra l'altro e Robert ha scelto l'esempio che contro le unità che abbiamo scelto noi sono molto efficaci a parte contro di me quando uso male gli infest ma quello si vedrà cazzo ho spoilerato ho spoilerato e io vado a scotare in perterti da solo e tra l'altro ma morirà ma perché stiamo spoilerando tutto uh guardiamo una fast app ah già io però ho un errore grossolano una fast app che supera addirittura la mia guardate la mia è quella di è quella di desa che siamo zerg non so se vi rendete conto sì perché ha fatto one gate no ha fatto one pile anche perché se ci pensi per fare ma sempre è necessario no la cosa ha pensato una cosa giusta ovvero gli altri non arriveranno prima di metà partita perché io non mi posso fare e spare al volo tu che lascia disinterrarsi tranquillamente scv che nel frattempo lui esiste desert che aspetta secoli prima di espandersi un po' un po' un po' un po' da ricordare che il petro cazzo si no dicendo gioco casuale guardiamo cosa un po' il nostro amico po' un po' che non l'abbiamo mai inquadrato finora perché è rosso è rosso e non si vede bene non si può inquadrare ma come si vede mai questo rosso mi sembra quasi arancio ma allora vediamo un trigate lui che aveva annunciato ha avuto siamo il bull arriva la via fabbrica siii in tutta sicurezza fa quello che gli pare infatti l'ho che si è sigillato di quasi chiudersi di pilone c'è qui un piccolo amico non che ne abbia bisogno visto che fa void però comunque andiamo il bull che ora va a scaputare l'espansione per Desa si ah ti ho beccato il bull rimane sempre a camperare con i propri scv io ho io ho un interesse con i propri giro metti magari occupato che la gente che spavola dopo fa schifo vediamo un po' che non si ne accorgi fra tu va a minare cosa arriva anche un altro scv bull è rimasto scv il territorio è stato sparciato cosa sta facendo perché sta mandando oh mi espando anch'io questo punto oh perché sta mandando sta facendo un trenino di droni si perché gli piace non lo chiamo che l'economia a questo punto di robert scese dovrebbe essere quella più avanzata che cavolo è il viola 660 in realtà non è la più avanzata no è più o meno pare a tutti gli altri la mia è la più inchiata di tutti la mia è quella più alta di minerali e basta si madonna io faccio scrivere non ho minerali ma non produco niente perché mai muli ti li sei scordati per la strada ecco cosa guarda i tuoi scv quanti sono sono pochi sono meno di pochi perché abbiamo mandati tutti a fare i dati ma nei mani di tutti al giro per la mappa non fare niente a morire quel cazzo e chi c'è quella caserma la potete mandare a scautare anche perché c'è due scv fermi ma non lo so ma perché non ha senso questa cosa dovevano minare i tuoi minerali e fare tanti soldi ciao il tempo arriva anche infatti ecco che nasce intanto l'infestor pit per me e vediamo Fati Lobby che ha lanciato il primo su tre star con le proie che si guida a quattro filoni guardiamole da che punto sono adesso il tempo Boyer invece ha già lanciato l'archiudo templare da due maestosissimi ai templar che presto si emergeranno eccoli là con una bella guardiamo che punto sono gli esempi di signor Chess guardate che è in genere ma tu ha lanciato adesso l'altro a un certo punto ho deciso di fare una lamerata eh comunque la vedrete la vedrete la lamerata il testo di spoilerare il testo di far spagliare la main senza mandare il trenino dall'altra parte esatto e anche lui ha mandato una certa pazienza in attenzione perché doveva arrivare esatto a l'alpeare io che ho qualche bello in realtà fa il fatto però è uguale non ti casare di avere la collega ma fa il bobito tanto non come c'è a fare il mio trenino guarda c'è troppa gente qui sotto ma quanti ce ne sono troppi devo fare tanti 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 spai quanti ce ne sono 24 25 droni in realtà non sono almeno costanti in realtà ce ne è un più del necessario comunque vedi quanta sappiamo proprio madonna siamo fortissimi vediamo che ora forse incomincerà a fare le ultra tra poco appena conto si schiude ma che cazzo dici tre forge per roberge oh anche lo scudo parte addirittura attenzione c'è due argonti anche poi airbuck airbuck che rimane indietro con quelle con anche le decidi di fare i treni io ancora che hai deciso di far spagliare non si è spazio è body love chi anche il pro uno spagliamento con tifo veramente infinito tutti gli spazi qui sotto dove dovevo andare a rubare l'espansione avanti per esempio si a farla fare dove la fa lui fra trattare un accorgimento è vero dove c'è una nota magnifica e ancora questi due scv fermi qui attenzione parte anche l'allucinazione e altri tre gate per lui comunque è una bella quattro se quanto un po' tardi firebuck direi si vabbè non più tardi di body love comunque che è ancora in monobase tonnellate di sonde che sbagliano ovunque guardate che situazione qui sopra ci sono io goodley questi due scv qui devono essere là evidente se neanche accorto che lui ti sta attaccando si ma adesso questo drone è portato non ricordo male drone si esatto guardate che questo drone come morirà non ci crederò mai no non lo uccide ora mi ricordo degli scv e mi pare che mi porto a casa no li lascio lì che cacchio che cacchio fai non lo so io ho ben 4 torre a questo punto perché non stai andato a spaccare queste sette guardate guarda il mio visuale guarda come non le avevo minimamente viste i nostri alleati sono guarda un po' che non va a spappolare milioni di armoni guarda eh mi sto stando la porta grazie